I paradigmi delle ricerche attuali, e parliamo di paradigmi della ricerca sul cancro, sono responsabili dell'attuale stallo delle capacità terapeutiche del cancro. La realtà contrasta con una serie di annunci continui di spettacolari progressi, di grandi conquiste, che sono smettite della realtà. Oggi, secondo dati scientifici non contestabili, come la ricerca del British Medical Journal, che considera la sopravvivenza ai 5 anni delle neoplasie, parliamo di tumori solidi, le eusemie sono una stretta minoranza, cioè la grande maggioranza dei tumori sono tumori solidi non nelle eusemie, hanno considerato che il 29,9% dei pazienti sopravvive a 5 anni per tumore per chirurgia. Ci sono esponenti autorevoli della comunità scientifica, perciò parliamo di premi Nobel, parliamo di Sheikman, di editori, capi di riviste internazionali di primissimo piano, perciò New England, Lancet, British Medical Journal, persone che hanno autorità e competenza per parlare. Ecco, da questi viene una critica documentata e grave sulla necessità di cambiare paradigmi di ricerca scientifica. Perché? Perché hanno notato, e tutto è partito da un episodio, ben Williams è un ricercatore statunitense, ha avuto un tumore cerebrale, un glioblastoma, e gli hanno fatto una prognosi di 15 mesi. E lui, malgrado tutto quello che ha sentito circa i progressi della terapia oncologica, è rimasto sconvolto. Dice, ma allora, in pratica siete impotenti, io faccio un intervento, radio, chemia, campo 15 mesi. e ha cominciato a guardarsi attorno. E cosa ha visto? Che una quantità di sostanze che per la ricerca scientifica sono utili, assidoretinoico, melatonina e altri, non sono valorizzate in terapia. Mentre nella terapia di Bella, sì. Sono valorizzate, sì. Sì.